Una scoperta straordinaria, siamo nel termopolio della Reggio Quinta, si era iniziato a scavare due anni fa, avevamo intercettato solo un lato del bancone, tra l'altro molto bello, con le reide che cavalcava un cavallo marino, credo in omaggio alla fontana antistante, perché questo termopolio si apre su una piazzetta, devo dire, fra le più suggestive di Pompei, dove abbiamo sul lato degli volatili pronti per essere preparati, un gallo e un bellissimo cane, una sorta di cave cane al guinzaglio e sopra. La possibilità di analisi adesso in questo contesto sono straordinarie, perché per la prima volta si scava un termopolio completo e si fanno tutte le analisi che le nuove tecnologie ci permettono, quindi i contenitori sono stati tutti analizzati e scavati con un team interdisciplinare. Adesso cominciano l'analisi per capire che cosa c'era nei contenitori, che cosa si offriva, quello che i passanti in questa piazzetta di Pompei potevano acquisire, le bevande, i cibi, quindi veramente uno spaccato straordinario sulla dieta mediterranea che avremo fra poco, appena saranno terminate le indagini di laboratorio. Qui c'era qualcuno ancora all'interno degli ambienti, una vittima, le cui ossa sono state intercettate nello scavo, purtroppo non in composizione, perché il termopolio era stato già in parte saccheggiato in antico.